In linea con i tempi previsti, la costruzione del nuovo asilo nido di San Giovanni dovrebbe concludersi per l'estate prossima. L'edificio che sta sorgendo al posto dell'ex caserma Chiarle, tra le vie delle cave e delle docce, è stato progettato con accorgimenti particolarmente innovativi e ospiterà 66 bimbi e 20 tra educatori e personale di servizio. Pensa ai bambini che vivranno nel legno, quello del riscaldamento a terra, recupero delle acque piovane, bassissimi costi di manutenzione. Questo è il domani e questo è quello che voglio fare. Basta cemento armato che dopo 20 anni deve buttare via tutto. Guarda che roba, prova a pensare a questi bambini che giocheranno in questi ambienti così sanificati, così sani, bellissimo. È un cantiere completamente innovativo, è una scuola con tutti gli impianti moderni, impianti di riscaldamento a pavimento, fotovoltaico, tutto a norma e tutto anche secondo i criteri per far accedere chi ha disabilità, non solo fisica, quindi difficoltà motoria, ma anche visiva. La struttura si collega alla vicina scuola materna Nuvola Olga e costerà complessivamente 3 milioni di euro, in gran parte garantiti dal contributo statale e con quasi un milione da fondi comunali. Nella prima scuola a Trieste che è fatta attraverso questi moduli che sono riciclabili e riutilizzabili, quindi diventerà davvero un asilo nido, un fiore d'occhiello per la città e ospiterà 66 bambini.